Vorrei sapere, miei cari giudici e signori della corte, stanotte, come io spento la luce per dormire, qualcuna che fingeva di dormire fino a due secondi prima, si è alzata ed è andata a mangiare i croccantini dei gatti. Già è cicciona di suo, perché è ciccionissima di suo. In più, si mangia i croccantini dei gatti, signori della corte, cosa dovrei dire io? E mi ha fatto alzare, sto parlando con le signora imputata, resti composta, e mi ha fatto alzare di notte per togliere i suddetti croccantini dei gatti. Quindi, signor giudice e signori della corte, cosa dobbiamo fare con questo cane che si fa prendere dalla fame notturna e va a mangiare i croccantini dei gatti?